Michele, ascoltami qua. Allora, io per la Cogito Studios, la mia azienda, stavo pensato di fare un mutuo, di chiedere un mortgage. Ho un'azienda, ho un'azienda, sì, sì, ho un'azienda. Ho dei rapporti privati con un capitalista. Siamo paroni, ok? Però quindi siamo cattivi, ok? Siamo cattivi. E c'è un problema però, il problema è che noi abbiamo tutti i conti in ordine, facciamo bene le cose, paghiamo tutto quello che c'è da pagare, siamo in tempo con le scadenze. E questo potrebbe essere un problema, perché mi sa che il mutuo finirà per ammazzarci, visto l'andazzo. Cosa dici tu? Ciao a tutti, buongiorno. Come state? Non sapevo di avere un appuntamento, non tutte le settimane come avete notato, oscilla, ma insomma, un appuntamento quasi domenicale, il secondo domenicale con una capitalista, però adesso che vedo che c'è la pochette delle gambe, una giacchettina nuova di nuovo, così via, comincio a rendermene conto. Eh sì, si riferisce a una cosa che gli ho mandato l'altro giorno, e che in effetti, per carità, in un certo senso è poca cosa, ma i tempi si vedono, quando cambia il tempo, bisogna guardare cosa fanno gli uccelli in cielo, perché te lo segnalano un po' prima che il vento sta arrivando, no? E si riferisce al fatto che qui negli Stati Uniti, adesso la cosa che vi farà ridere è che prima pensavo che fossimo già... Già impuntata, esatto. E pensavo che lui mi chiedesse così a modo suo, dire vai racconta sta storia, perché c'è un piccolo aspetto tecnico, ma adesso anzi l'aspetto tecnico lo salto, guarda. E mi sono messo a spiegare, come al solito, col mio tono, la professori... Sono quattro anni che collaboremo, Michele, non ho ancora capito come funziona il Duffer e Boldrin. Non funzionava sempre così. Ma sono tre anni che funziona così, Michele. Comunque, 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 no dai, vai, vai. No, racconta, racconta, che è interessante. Vuole sottolineare l'incidente al zemaierismo. Va bene, va bene. Insomma, gli ho mandato sta roba dicendo, guarda un po', veramente non riescono a capirlo, che così non si risolve il problema della diseguaglianza. A parte che però la diseguaglianza non si risolve, si attenua, se volete, o si attenua all'aspetto laddove la diseguaglianza è problema, perché non è che è sempre un problema. Però così si fa solo danno. Niente, adesso vi salto l'aspetto tecnico. L'Agenzia federale, fondamentalmente la decisione governativa, cioè il governo Biden, ha deciso di, per via amministrativa, modificare alcuni costi che si pagano quando si accende un'ipoteca per comparsi una casa in questo paese, alzando arbitrariamente di un punto e 25, mi pare, un punto e mezzo i costi per chi ha un ottimo credit rating. Allora qui, per darti i crediti, siccome funziona abbastanza bene, c'è questo meccanismo, il credit rating. Ci sono agenzie tantissime che seguono un po' le tue carte di credit, i conti in banca, i tuoi pattern di spesa, e dico, no, sto qua paga regolarmente. Per esempio, se tu cominci a... Ricca avrebbe un buon credit rating, se è vero quello che ci ha detto. Adesso noi non sappiamo se è vero, però se è vero quello che ci ha detto avrebbe un buon credit rating. Perché se paga regolarmente tutto, non salta mai, non si dimentica, non ha un enorme indebitamento rispetto a quello che genera di reddito e produce, le agenzie gli danno un certo punteggio, che qua sarebbe superiore al 65, 70, anche di più, dicendo che questo è un buon credito. Cioè uno che se gli presti 50 mila dollari, 100 mila dollari, o anche mezzo milione, è molto probabile che passo passo te li restituisca. Se viceversa, avesse fatto l'esatto contrario, mano a mano il suo credit rating diminuirebbe. Allora quando accendi un'ipoteca, i costi, i tassi e i interessi, vengono determinati dal tuo credit rating, oltre che dalle condizioni di mercato indipendenti da te. Ci sono le condizioni di mercato, i tassi e i interessi sono cresciuti, perché la Fed li ha fatti crescere, però all'interno di questa crescita media ci sono quelli alti e quelli bassi. E anche nei costi di chiusura che questa cosa riguarda ci sono quelli alti e quelli bassi. Niente, questi hanno deciso che arbitrariamente se sei bravo, con un credit rating alto, te li aumentano. Se sei invece all'estremo opposto, cioè terribile, uno che forse non è neanche il caso di dargli credit, te li abbassano. In questa maniera ovviamente le due cose si compenserebbero, per cui un cross subsidization, io punisco con una piccola tassa aggiuntiva, perché non sarà grande, il calcolo che si fa è che uno tipico, con un ottimo credit rating, se non si compra proprio una casa multimilionaria, a parte che qua le case costano, poi c'è una zona del paese dove con meno di un milione di euro non ti compri neanche il garage. chissà dove è mio figlio, per dire. Comunque, tutta roba vuol dire che paghi 70, 80, 50, 90 dollari al mese in più, però in un anno sono 500, 600, 700, anche 1000 e nell'arco di un'ipoteca che può durare 10, 15, 30 anni cominciano a essere dei soldi. Ma non è quello il punto, il punto è che ti sei inventato un intervento amministrativo che favorisce il prestito di chi, in realtà il prestito, bisogna stare attenti a darglielo, e sfavorisce quella di chi invece è un buon affare. Allora, tutto questo ovviamente ha una motivazione. Nel mercato immobiliare americano, da sempre, una certa minoranza ha meno capacità di acquistare la casa a credito, a debito indebitandosi e quindi si cerca di favorirglielo. Sappiate che questo fu nel lontani anni 90 la seconda amministrazione Clinton, qui viene il punto, attuò una serie enorme di provvedimenti, questo è poca cosa rispetto, una serie non enorme, insomma parecchio più grande, che di fatto fu alla radice del cosiddetto subprime crisis, e cioè la nascita del grande mercato subprime nacque da questi grandi incentivi che si diedero al finanziamento di mutui che altrimenti non si sarebbero dati. In particolare di cosa? Di mutui con poco deposito. In Italia adesso non so, perché non seguo molto, ma credo sia molto difficile ottenere un mutuo decente se non metti giù almeno il 10-20% del valore della casa, giusto? Siamo intorno al 14-15% dell'anticipo fondamentalmente, sì, sì, sì. Quindi assolutamente. Per altro, ha migliorato il terribile capitalismo, l'ha migliorato, sappiate che nella mia generazione la frase famosa di il papà ti compra la casa era realista, nel senso che il papà ti comprava praticamente l'intera casa, pagava il 70%, del valore dell'appartamento, di quello che era una banca col cazzo che ti dava. Sì, adesso la cosa che è cambiata, diciamo così, è che adesso per l'accesso anche a somme relativamente piccole tu oltre comunque all'anticipo hai bisogno anche di garanzie che magari 30 anni fa non venivano date, quindi comunque tu hai da un lato il versamento capitale, dall'altro hai anche comunque la necessità di dare una garanzia, quindi che sono aumentate rispetto al passato, però sì, sicuramente. Quindi le banche italiane chiedono cosa? Una collateralizzazione di strumenti finanziari? Sì, che può essere una fideiussione ma più spesso invece è anche la firma di un garante, quindi magari adesso diciamo così, il papà non ti paga più la casa, ma se tu non paghi il tuo mutuo il papà ci ha rimesso la sua casa, cioè nel senso è un po' questo il senso, però insomma. Io non seguo bene, ecco questo è un pessimo, questo vuol dire che il mercato, il capitalismo neoliberista in Italia non è ancora arrivato. Decisamente no, decisamente no. Qua invece dove è arrivato da tempo, da sempre le banche se hai un reddito proporzionale all'ora della casa ti prestano i soldi e fondamentalmente la soglia minima è 5-10%. Ovviamente se tu metti il 20% o il 30% il tasso interesse che ti fanno è migliore perché loro occorrono meno rischio. Però non c'è bisogno né del papà né del nonno né della mamma per finanziare. Ecco, uno degli effetti di quei provvedimenti fu che a un certo punto divenne necessario lo 0% e cioè ti prestavano i valori della casa. Anzi a un certo punto era tale l'euforia un po' per i tassi bassi, un po' perché crescevano i valori immobiliari, un po' appunto perché c'erano questa sensazione che tanto è assicurato era tanta l'euforia che si cominciò a fare il 110, il super bonus di mercato. Non so che la banca letteralmente diceva quanto vale la casa che lei si compra? Mezzo milione? Guardi, gliene presto 540. Esatto. Così come in 40 si fa anche i mobili nuovi e magari una vacanzetta al Caribe. E vai, tanto la casa di sicuro fra sei mesi varrà a 620 per cui siamo tranquilli. sti cazzi abbiamo visto come è andata a finire. Bene, allora qual è il mio punto? Il mio punto che ho dato a Rick dice proprio che non ce la fanno a capire che introdurre meccanismi grandi o piccoli che siano che puniscono chi fa bene e premiano chi fa male inventandosi che così si fa giustizia sociale non lo risolverà mai. E gli ho allegato perché per caso lo stavo leggendo un libro che non vi raccomanderò e quindi non lo menzionerò. Purtroppo leggo una quantità enorme di stronzate grazie a Dio le leggo diagonalmente per ragioni professionali diciamo così per tenermi informato nel dibattito e l'ennesimo guru paleomarxista in realtà spacciato per moderno che ripete queste puttanate. Quali sono le puttanate? Le puttanate di fondo è che è il meccanismo di mercato che viene chiamato meccanismo capitalista il problema e che l'oppressione del proletariato viene dal meccanismo di mercato quindi è il meccanismo di mercato che devi far saltare che devi distruggere perché è lì che sta il male ok è una forma il meccanismo di mercato è una forma di violenza questo la chiama compulsione muta e cioè il fatto che avviene per effetto sistemico e il sistema è un'altra versione fra le mille di il sistema è contro di noi il famoso sistema ecco e a me pare un'idiozia totale adesso visto che ho predicato lascio parlare perché se no mi mandate a quel paese e non vi abbonate più da me rimanete da Ricky smettila di farmi concorrenza sleale Michele smettila no questa è una cosa oh via oh via il ragionamento è interessante perché ha dei presupposti e delle implicazioni a parte delle implicazioni ok quando c'è stata la crisi dei subprime quello di cui non ci si era resi conto è che in realtà quella che poteva sembrare ideologicamente una solidarietà sociale perché appunto l'amministrazione Clinton aveva fatto questi nuovi parametri per emettere i mutui con la scusa di favorire gli emarginati favorire quelli che il sistema non aveva favorito e via dicendo ma in realtà diventò un incentivo straordinario per quelle banche che producevano questo tipo di titoli e le commercializzavano per dire abbiamo una platea di clientela molto molto più ampia cioè il punto non è soltanto quello che diceva Michele cioè tu al posto di fare il mutuo da 500.000 glielo fai da 550.000 quindi tu broker hai una commissione più alta evidentemente ma non solo il fatto è che tu passavi dall'avere 500 possibili clienti nella zona dove operi ad averne 1.500 perché perché la cosa di cui questi ideologi non si rendono conto di questi che fanno questo è che tu avrai sempre in una società un numero di persone più ampio che fa male rispetto a quelle che fanno bene perché perché è un meccanismo puramente statistico noi sappiamo che nell'ambito di una società l'eccellenza è una percentuale più piccola rispetto a quella che invece è la mediocrità se tu compi un tipo di scelta di questo tipo tu in realtà stai mascherando con un'ideologia solidale di belli buoni di virtue signaling e queste cose qua una roba che in realtà incentiva quell'avidità autodistruttiva che poi è ciò che ha portato materialmente alla crisi dei subprime cioè tu hai un sacco di broker che sono fortemente incentivati a fregarsene dei rischi dell'emissione di un mutuo per una famiglia che palesemente sarà insolvente fra un anno fra sei mesi perché in realtà prendono commissioni migliori e hanno una clientela molto più ampia quindi la cosa di cui non ci si rende conto è questa che dietro tantissimi aspetti che vengono svenduti come solidarietà inclusività e via dicendo c'è in realtà una avidità molto spicciola che poi porta a delle conseguenze come quelle che abbiamo visto nel 2008 queste secondo me sono delle implicazioni interessanti perché ci fanno capire anche cosa accade nel mondo di chi i soldi li deve fare quando ci si maschera da ideologi della solidarietà e mi dispiace lì ragazzi non c'è niente da fare nell'ambito di questo tipo di business devono vigere i numeri devono vigere le statistiche non i bei sentimenti quando i bei sentimenti prendono il sopravvento succedono i disastri come è successo nel 2008 perché tutti quanti adesso a dire il 2008 è colpa del capitalismo colpa del sicuramente è stata una distorsione di alcuni meccanismi che fanno parte del meccanismo capitalista poi insomma tutta questa parola che può essere applicata a qualsiasi tipo di pre-live ma questo vabbè l'abbiamo già discusso nel pre-live il punto essenziale da comprendere è che dietro quella crisi ci furono delle scelte che miravano proprio a sembrare belli e buoni cioè erano le scelte dei solidali di Clinton democratici dicendo che volevano includere le persone in una cosa in cui era meglio non includerle ma non per cattiveria ma perché poi i numeri se trattati male portano a conseguenze che sono dannose per tutti quanti e quindi questa è un po' l'implicazione dal punto di vista invece dei presupposti è altrettanto interessante questo aspetto perché va a inserirsi in tutta una serie di discorsi che già io e te abbiamo fatto uno su tutti l'idea che eccellenza merito competenza siano soltanto delle determinazioni ideologiche e politiche cioè che l'eccellente il competente non è definito in base ai risultati e quindi al di fuori di qualsiasi connotato ideologico no questi sono convinti che l'eccellente è eccellente perché la società il sistema ha definito i criteri con cui valuti l'eccellenza che il competente è competente non perché ha delle competenze utili oggettivamente alla collettività ma perché abbiamo una collettività che è patriarcalista bianca etere e tutto quanto capitalista evidentemente che definisce per proprio tornaconto una certo tipo di competenza questo non c'è nulla da fare però è una fantasia devastante che sta alla base di scelte politiche che poi portano a dei danni enormi e come adesso sicuramente Michele magari ci spiegherà bene una scelta come quella presa in questi giorni dal governo Biden è una scelta che inevitabilmente poi andrà a diminuire la ricchezza disponibile per tutti perché se tu ti convinci che l'eccellenza in termini di pago i miei conti e rispetto le scadenze è solo il prodotto di un privilegio culturale a un certo punto tu ribalti questa cosa o di chiamiamola così classe c'è questa idea che tutto dipende certo ma guarda non so ovviamente questa è un segno una piccola cosa francamente qui purtroppo un problema degli Stati Uniti non è molto di simile dall'Italia ma è che siamo sempre in elezioni presidenziali e quindi di fatto siamo in campagna elettorale credo che fra qualche settimana forse anche prima Biden annuncerà la sua candidatura a mio avviso una cosa tragica il problema di Biden qual è ve lo dico visto che ne parleremo in futuro perché l'Italia si segue molto la politica americana così simbolicamente la politica interna di Biden a mio avviso è disastrosa assolutamente disastrosa ma ne torneremo sopra e quindi questa mossa è una delle tante di campagna elettorale ok lui si sta comprando sta cominciando a comprarsi i voti esattamente come questa cosa che ha fatto IRA IRA Inflation Reduction Act che è Inflation Reduction al contrario e siccome sa e che quello è il problema di Biden ma qui torniamo alla politica poi torniamo alla questione di fondo cos'è che sa Biden sa che l'inflazione che i suoi provvedimenti e quelli di Trump hanno scatenato e le loro prediche inflazionistiche ok hanno danneggiato i salari americani nei dati è brutale nei dati c'era un recupero sostanziale dei salari reali iniziato nel 14 e acceleratosi che ha oscillato ovviamente con i casini a 20-21 però con i sussidi inflazionistici hanno compensato e adesso invece l'inflazione li sta mangiando alla velocità della luce specialmente quelli della classe cosiddetta media ok che è un unico effetto buono se volete ma in realtà dovuto più che altro alle politiche migratorie è che il mercato del lavoro nella parte bassa si è prosciugato quindi i salari della parte bassa stanno crescendo a doppia cifra cioè 10-12 adesso un po' meno ma sono cresciuti però lui sa che il grosso dei salari reali si è prosciugato quindi cos'è che deve fare deve nascondere questa cosa e cioè che i vari provvedimenti più o meno walk che lui ha preso in particolare quelli di tipo chiamiamoli ecologici in realtà sono uno strumento che alimenta la crescita di prezzi e l'inflazione e distrugge danneggia il reddito esattamente di quello che lui vorrebbe essere la sua base elettorale quindi a questa contattazione deve raccontare in un certo senso la classe operaia lasciate che la mette in maniera brutta deve raccontare la classe operaia che l'andare dietro Alejandra Ocasio-Cortez o a Naomi Schlein lì come si chiama l'italiana la Svizzera italiana è l'ischlein Naomi Schlein Naomi Schlein è quella di non logo è quella di no logo però posso dire che è un lapsus veramente interessante cioè nel senso Naomi Schlein e beh è la stessa roba predicano le stesse cretinate hanno la stessa origine sociale altoborghese e appunto andare dietro ai salottieri altoborghesi che predicano la fine del mondo è dannoso per la classe operaia questo Giorgia Meloni l'ha capito e si porta a casa i voti vendendo fuffa alla classe operaia però cogliendo che c'è la contraddizione i cosiddetti sinistri italiani non l'hanno capito che andare dietro a Greta Thunberg fa danno ai poveri non ai ricchi ai poveri i ricchi esattamente come andare dietro alle fobie di Speranza di Burioni di Ricciardi in fase Covid faceva danno ai poveri alla grande maggioranza degli italiani in realtà in questo caso che vivono in una certa maniera e producono in una certa maniera e rendeva felici i signori e le signore dei salotti del ZTL i quali non hanno bisogno di andare a lavorare hanno appartamenti ampi e se c'è del caso che sono preoccupati un po' fobici mandano il domestico a fare la spesa bene fatto questa prolusione da populismo di destra direte voi ma pura riflessione sui fatti torniamo alla questione che ha posto a Rick che è quella lasciate che mi dica dove c'è il problema nelle società avanzate l'arricchirsi nel senso di migliorare la propria condizione sociale non di diventare Bill Gates Bill Gates Jeff Bezos il signore lì francese che non mi ricordo mai come si chiama che si è comprato un palazzo grassi che è l'uomo di quel mondo eh Bernard Arnault Bernard Arnault bravo grazie Francesco prego Giorgio non cominciate non cominciate grazie grazie Fede Bernard Arnault anche quello bisogna farci una riflessione perché nessuno si incazza con Bernard Arnault tutti ce l'hanno con Bezos nessuno si incazza con Bernard Arnault perché non vi incazzate che Arnault vi vende pelle di merda e cartone stampata Louis Vuitton e voi andate tutti a spendere 8 mila euro 14 mila euro per delle stronzate che non valgono un cazzo perché me lo spiegava il suo marketing manager che tanti anni fa ve lo garantisco ero un italiano da Benevento che poi ha messo su un'azienda di pane figo a Madrid ok perché si era rotto le balle di lavorare per Arnault dopo aver fatto i soldi e diceva è una cosa ridicola abbiamo dei margini su Vuitton che i prodotti perché come sapete Arnault controlla mezzo mondo del lusso tra l'altro ecco monopolisti lui è un monopolista il mercato internazionale del lusso lo controlla lui e quindi i markup li decide lui e i tassi di margine di profitto sui suoi prodotti sono giganteschi perché nessuno si incazza con Arnault vi siete mai fatti la domandina? solo i francesi il resto del mondo no no perché europeo è figo fa le cose di lusso non è una cosa misteriosa americana nascosta da questi che ci controllano il cervello lui ci incula direttamente con la borsetta no se avessi detto ci incula in francese e la borsetta paro c'è tutta una quantità chiudi la parentesi Michele chiudi la parentesi non ci perdiamo chiudi la parentesi no no ma non è che non ci perdiamo siamo in linea diventare migliorare la propria condizione sociale nel mondo questo che non è il mondo del 1800 questo è il punto e men che meno quello del 1700 se volete di quello della prima metà del secolo 20 con i vari regimi dittatoriali con strutture feudali con assenza di scolarizzazione di massa eccetera eccetera è oggi questione di comportamenti quindi di norme di comportamento individuale di sistemi valoriali di allocazione del proprio tempo quando si ha 10 12 17 20 anni di relazioni familiari di comportamento e sono quelli la fonte o ben della povertà o della ricchezza per la stragrande maggioranza della gente poi per carità per carità c'è un 5 10% o il più immutabile che ha delle sfighe gigantesche nella vita che davvero non dipende da lui certo c'è da lei ma per carità ma per carità ma su tutti quelli esistono come dire meccanismi di assistenza di copertura sociale abbastanza efficienti in quasi tutti i paesi e se non ci sono o sono parziali in Italia e vengono trasformati da cretinato in grado di cittadinanza si lavori per renderli adeguati ma quando veniamo a casi come gli Stati Uniti o l'Italia di sacche di povertà ampie occorre avere la capacità di riconoscere che hanno a che fare con la diffusione di sistemi valoriali e comportamentali e che o lavori su quelli o da quelle sacche di povertà non li vedi negli Stati Uniti è palese che così sia perché in questi ultimi 50 anni 60 anni dai tempi del civil rights movement che ha rotto la barriera almeno ufficiale ma anche comportamentale in moltissimi posti nei confronti della minoranza afroamericana abbiamo avuto flussi migratori arrivati da posti estremamente più poveri estremamente più disagiati estremamente più estranei al corpo sociale americano per ricominciare non erano cittadini spesso erano emigranti illegali tantissimi milioni e milioni e milioni di emigranti illegali venivano da situazioni di totalmente preindustriali dalle foreste del Centro America dalle foreste del Vietnam e via e questa gente in una generazione è riuscita a integrarsi ok voi direte ah perché verso di loro non c'è il razzismo pensateci c'è molto razzismo nei confronti di quelli là come c'è nei confronti della popolazione della popolazione nera il razzismo c'è e viceversa ci sono problemi comportamentali valoriali che vanno risolti sono indotti dal fatto che questi sono arrivati come schiavi le loro famiglie di origine poi sono stati discriminati per circa un secolo dopo la guerra civile probabilmente sì ma non li aggiusti ed è questo il problema con questi come dire privilegi e trasferimenti su rettizi di reddito perché questi altri non fanno che incentivare un meccanismo io sono vittima mi comporto da vittima continuo a comportarmi così mi ricompenseranno perché mi daranno qualcosa gratis anche se non ho fatto niente per guadagnare e così non funziona proprio non funziona si vede che non funziona e alla base peraltro alla base di questo tipo di visione del mondo c'è una visione estremamente come dire sì che legge la vita degli individui non come comportamenti come condotte e sistemi valoriali ma come prodotti di diverse generazioni cioè l'afroamericano di oggi negli Stati Uniti deve avere accesso alle reparation perché il bisnonno o addirittura il trisavolo è stato deportato e via dicendo e tutto questo ha una lettura che poi è estremamente arbitraria perché quando vai a leggere gli studi fatti in questo senso gli antropologi che parlano di questo i sociologi non ti portano uno straccio di dato uno straccio di ragionamento falsificabile nulla che dimostri come l'effetto delle politiche odierne sia il risultato di cose accadute 150 anni fa sicuramente c'è un effetto ma come dicevi tu non lo vai a colmare con la sussidiarietà e queste cose qua mi ha fatto venire in mente un articolo che ho letto proprio in questi giorni che parla del perché in Africa la Cina è molto più in vantaggio rispetto agli Stati Uniti e la risposta è molto semplice perché gli Stati Uniti hanno da ormai 70 anni a questa parte ma in realtà di più adottato la politica del monetary aid quindi nel senso noi diamo flussi di danaro che di solito finiscono sempre in mezzo a corruzione governi che durano quattro mesi e sicuramente non nell'avanzamento della qualità di vita in tanti paesi la Cina invece ha costruito infrastrutture aeroporti autostrade qualche giorno fa c'è stata Kamala Harris che è stata che mi sembra Nairobi se non sbaglio ha fatto una visita e uno dei maggiori politici di quella di quella città ha detto Kamala Harris è appena atterrata in un aeroporto costruito dai cinesi e in realtà lì in Africa stanno abbracciando enormemente la filosofia della Cina nell'ambito di questo tipo di relazioni perché la Cina ha detto sai cosa io non ti mando infrastrutture si costruisce con lavoratori cinesi che la ricordiamoci ce ne sono un bel po' ma anche africani la nascita di aziende in Africa dovuto a questo tipo di cooperazione in Cina è salita ed è esplosa gli Stati Uniti sono tagliati fuori perché gli africani hanno capito che il senso della sussidiarietà non è e anche il senso se vogliamo della reparation non è dare denaro non è convertire il flusso di denaro ma è portare lavoro e quindi fornire strumenti affinché le eccellenze emergano la cosa che mi manda in bestia e quello devo dire perché tutto questo ha a che fare con tutto questo discorso della politica nei confronti delle minoranze statunitensi sono tutti impauriti delle reazioni sociali e quindi si fa non solo il minimo indispensabile ma anche la cosa controproducente se tu adesso come diceva Michele immetti flusso di denaro quindi fai sussidi bonus reparation oppure inverti il sistema di valutazione del credito e queste cose qua tu non stai dando nessuno strumento affinché le persone che beneficiano di questi di questa generosità di questa di questo marxismo meraviglioso capiscano cosa diavolo fare della propria vita non hanno strumenti per far emergere le competenze per mettere al lavoro i talenti non lo fai perché hai il sussidio e quello che sta accadendo invece in Africa io allego anche in descrizione l'articolo a cui faccio riferimento perché in live poi lo metto dopo in chat l'Africa l'ha capito perfettamente l'Africa non vuole il flusso di denaro infatti è il motivo per cui guardano con diffidenza a tutte le manifestazioni della politica americana che cerca di affacciarsi all'Africa perché gli stati hanno capito che il flusso di orica quindi le guardano ma hai colto il punto cioè tra l'altro queste cose tutti dicono gli economisti queste cose nell'ambiente accademico le abbiamo denunciate 20 25 anni fa c'è un bellissimo libro di un collega che sta a Eno Aiu come al solito mi ricordo il nome ma adesso ve la cerco che è lavorato per anni alla Banca Mondiale che ha scritto due libri addirittura proprio sulla questione e uno è di denuncia delle follie del sussidiarismo di stampo come dire WOC pre parola WOC perché è di Banca Mondiale e FOD documentando come alla fine finisce proprio nelle tasche dell'elite e fornisce solamente un transfer da elite a elite e lo stesso tra l'altro sta succedendo qua negli Stati Uniti il meccanismo generale della firm che crea discriminazione favorevole ha favorito chi? non ha favorito la grande massa il corpo grosso della popolazione afroamericana perché? perché questa non ha proprio i modelli comportamentali valoriali gli skill per utilizzarlo ha favorito la elite loro la quale è diventata una super elite perché è fighissima entra dove vuole e non deve fare lo sforzo di lavorare scusate se ti interrompe no sì sì ma questo si inserisce benissimo perché quello che stavo dicendo è quello che la Cina poi di nuovo con risultati discordanti perché non è che stia andando tutto come volevano però è chiarissimo che la Cina sta scusatemi che l'Africa sta accogliendo la Cina accogliendo politici facendogli fare inaugurazioni di strutture cioè ci sono un sacco di foto e video se guardate di politici cinesi che vanno e tagliano i ribbons nella inaugurazione di ospedali di infrastrutture di interi quartieri di città e via dicendo perché chi veramente viene fuori da un momento di disagio e ha riconosciuto quali sono le cause del disagio vuole scoprire e usare i propri talenti non usare il denaro altrui che è comunque denaro derivante da attività e talenti di altri non ha nessun senso il sistema di redistribuzione del denaro cioè ha un senso fino a un certo punto quello che diceva Michele quando ci sono sacche di popolazione che sono veramente impossibilitate a mettere a frutto talenti dicendo che sono una percentuale che esiste ma che è comunque gestibile dicevo non ha senso redistribuire i denari ha senso redistribuire le capacità di mettere a frutto competenze ed è quello che la Cina bene o male sta facendo in Africa Biden e gli Stati Uniti non lo sta facendo e stanno adottando la soluzione facile perché tutto questo wokeismo in realtà dal mio punto di vista è l'atto più proprio più sbagliato nei confronti di quelle popolazioni che si vorrebbe tirare fuori dalla povertà perché gli si sta abituando al fatto che non potranno mai tirarsi fuori usando le proprie competenze usando i talenti perché perché alla base c'è questa idea idiota del fatto che persino la competenza sia qualcosa di culturalmente determinato che il risultato sia sempre deviato in principio dall'impostazione e di nuovo patriarcalista bianca etero e capitalista della vita quando in realtà poi ti convinci di questo tu compi l'inversione a U facendo delle misure come quelle di questi giorni e poi ti accorgi ah cavolo guarda succedono i danni succedono i subprime succede che la gente se ne va dalle zone di produzione succede che i talenti la smettono effettivamente di avere l'impatto che avevano e via dicendo e questo è questo è abbastanza terribile e lì poi ti accorgi che in realtà le competenze esistono al netto di quelle che sono i presupposti culturali voglio dire per costruire un ospedale non è che costruire un ospedale sia determinato dal fatto che tu sei bianco o nero patriarcalista marxista o chissà che cos'altro si è spenta la videocamera Fede scusatemi c'è un problema con la batteria ma mi sentite ma è è derivante proprio dal fatto che c'è un impatto no io guardate me sono più bello esatto c'è un impatto come si sta divertendo Michele volevo dire sono più maturo c'è un impatto sulla realtà delle nostre decisioni ideologiche ecco no no vai pure è proprio fondamentale questa cosa qua non riuscire a vedere la relazione fra comportamenti individuali e stato sociale e sia chiaro tutto questo è molto ingiusto in parte sì ma è là è qui veramente oddio vai vai tranquillo sono sempre qua sono sempre qua vai vai capite ci sono non tutto è determinato socialmente non tutto artificiale uno dei danni enormi di certa filosofia finta che poi non ha detto un cazzo è stata di convincervi che tutto è un costrutto sociale quindi tutto è modificabile non è vero eh sì è vero è vero e questo è un tema su cui io torno continuamente sono tornato anche proprio ieri per caso con il mio amico Paolo Bizzarri in una piccola chiacchierata del tutto estemporanea perché accettate tutti che la bellezza sia un fatto oggettivo che al più si può coltivare ma non si può modificare perché accettate tutti che Boldrin bello non può diventare che il viso di che ne cazzo ne so scegliete voi l'attore maschio che vi piace di più non può averlo per quanto si trucchi e mi trucco eh sapete mi faccio delle plastiche lo sappiamo lo sappiamo mi metto mi metto le creme insomma Dio lo sa cosa non faccio eppure niente no perché no tutti quanti accettano banalmente che Pelé era davvero bravo a giocare a calcio che non c'erano cazzi ma perché tra l'altro riconosciamo i geni perché diciamo che Mozart era un genio mentre non riusciamo ad accettare tutta la gradazione intermedia fra Mozart e di nuovo Boldrin che a toccare il piano l'unica cosa che riesce a fare è sfasciarlo con Martello e quindi c'è una dimensione della diseguaglianza che è in parte dovuta a doti personali e in parte dovuta alla capacità di applicarsi e di applicare certe norme comportamentali fra gente del mio del mio mondo i nerds cosiddetti i secchioni girava adesso non gira più tra l'altro perché adesso è diventata politica l'incorrente ma per molti anni tra l'altro anche questo l'ha distrutto per molti anni una delle abitudini dell'Accademia Americana un po' sciocca se volete era che i professori i colleghi le persone anche gli studenti di dottorato usavano la porta del loro ufficio per appiccicarsi per appiccicarci i loro pensieri le battute e tantissimi ci mettevano fumetti fumetti che gli piacevano e che rappresentavano la cosa simbolica ce n'era uno c'era un grafico che girava che era nell'asse orizzontale aveva il tempo della vita dalla nascita alla morte e sull'asse verticale aveva come dire il tasso di soddisfazione di felicità e c'erano due grafici c'era quello del nerd e c'era quello invece del figo di quello che nerd non è del normale perché il nerd è una minoranza e cos'è che mostrava ovviamente il grafico che quell'altro andava alla felicità ce l'aveva subito molto rapido ma aveva un massimo attorno ai 20-25 e poi cadeva e rimaneva molto bassa per il resto della vita mentre quella del nerd era bassa all'inizio poi lentamente si accumulava e poi diventava alta e rimaneva alta ora questa è una situazione banalissima che io ho riscontrato nella mia vita con i miei molti amici e con tanti altri che è vero obiettivamente se hai certe capacità cognitive e però le sprechi fra i 15 e i 25 poi non le recuperi è vero mentre se le investi fra i 15 e i 25 poi recuperi poi hai un pagamento mettiamola così faccio una su questo mi sento di fare una specifica mettiamola così dipende ecco fra i 15 e i 25 quanta parte ne sprechi perché credo che in quell'età vada anche bene sputtanarne un po' nel senso io ne ho sputtanata un po' ho fatto delle cazzate ho perso un sacco di tempo dipende quanto ecco cioè nel senso se tu dedichi l'interezza delle tue energie psicofisiche a puttanate avrai una vita di puttanate cioè nel senso un po' questo e se invece riesci a dedicarne almeno una parte alla formazione via dicendo allora lì sì sì sono d'accordo sono d'accordo certo che è una questione di proporzioni c'è un rendimento ed è anche vero che se passi la tua prima e seconda adolescenza e gioventù a come dire a fare solo investimenti per il futuro senza cercare di dare spazio ai tuoi bisogni ai tuoi desideri senza uscire con gli amici senza andare a divertirti senza avere un moroso o un'amorosa senza fare un po' di sesso eccetera eccetera diventi probabilmente uno con problemi sociali comportamentali psicologici non male che ti dannesano certo c'è un reale equilibrio ma assolutamente e poi ognuno ha il suo livello ognuno ha il suo livello però devi decidere dove ci sono le priorità devi riuscire a calibrare a capire la rilevanza dell'investimento tutto questo a largo della vita mi dispiace dire ha un effetto enorme e determina e determina fondamentalmente per persone che nascono specialmente per persone che nascono da condizioni sociali umili nei quali i genitori non siano in grado di trasferire gran capitale perché sai c'è dei genitori che alla fine ti trasferiscono la casa dal milioncino un altro paio di milioncini di finanziari insomma potrai anche fare lo scapestrato però con un patrimonio di 3 milioni è un rendimento banale tu quei 60 70 mila euro all'anno per sopravvivere il resto della tua vita anche se fai cazzate ce li hai e quindi basta anche meno d'accordo il punto è per gli umili gli umili quelli che nascono umilmente questo è una regola mi avviso inevitabile del comportamento umano e non accettare che queste sono le cose che creano la differenza cioè Bezos mica è nato miliardare ed è inutile odiare Bezos perché è diventato ricco è una cosa ridicola mi rendo conto che è così però al fondo di questo discorso anche lì è una roba su cui in parte ci siamo già tornati in passato c'è il rifiuto delle condizioni della propria vita cioè nel senso questa è una cosa molto psicologica e molto anche che ha a che fare con la filosofia per mettere in atto quella consapevolezza che porta a descrivere quanto hai appena espresso serve almeno la capacità di guardare in faccia i propri limiti cioè devo partire dal presupposto che se a 19 anni non sono arrivato ad essere professionista nella pallacanestro non diventerò mai Stephen Curry devo comprendere che se a 14 anni ho passato gran parte del mio tempo sui videogiochi fino ai 18 anni è difficile che a 20 anni io possa veramente raccogliere i cocci e propormi come premio Nobel per la chimica fra 15 anni cioè c'è tutta una serie di di fattori da cui secondo me scappiamo perché poi lo sappiamo umanamente la cosa più complicata del mondo è fare pace con i propri limiti cioè far pace con il fatto che io sono fatto in un certo modo e quindi la mia vita è una serie di confini in cui devo cercare di trovare il mio spazio in una società invece che ci ha convinti della trasformabilità di ogni cosa e ci ha convinti di questo dicendoci quella formuletta lì è tutto è un costrutto sociale perché tutto è un costrutto sociale significa che se tu non sei pelea a 19 anni è perché la società in qualche modo ti ha impedito di esserlo se tu non prendi il nobel per la chimica a 35 anni è perché le condizioni te le hanno impedite via dicendo in una società quindi in cui ci siamo convinti che tutto è trasformabile allora la capacità e la necessità di guardare in faccia i propri limiti è rimandata indefinitamente e allora lì sulla base di questo presupposto le competenze diventano degli accessori che i tuoi privilegi ti forniscono e di conseguenza l'unica strada per ritagliarsi un po' di serenità è avere il sussidio avere la mancetta avere la dote la dote che però non ti chiedi mai da dove arriva peraltro questo è un argomento Michele che connette in sé un sacco di cose connette il discorso delle pensioni ok il fatto di dire non comprendere da dove arrivano le risorse per perché in fin dei conti in una società di ipertrasformabilità tutto è sempre dovuto tutto è sempre un diritto perché i diritti li costruiamo socialmente e se non c'è un diritto non è perché le condizioni reali della società ci impediscono di costruirlo come vorrebbero i nostri desideri ma perché c'è un manipolo di stronzi che con il potere ha costruito un discorso sociale che contraddice l'esistenza di quel diritto ed è tutto legato a questo fattore io poi cosa vuoi deformazione professionale sì certo ma veramente io questa cosa qua non posso non vederla prodotta anche socialmente politicamente da quel manipolo di filosofi che in passato anche a me hanno fatto tanta simpatia che sono i francesi degli anni 50 60 e 70 che negli Stati Uniti oggi infatti sono fra i più citati ricordiamocelo cioè nel senso esattamente questa è l'onda lunga delle stronzate derridiane e compagnia e anche fucoltiane il buon fucco che ho riletto con attenzione in questi ultimi mesi specialmente le lezioni del Collegio de France andava in cerca di alcune cose anche ragionevoli perché non è vero nella stessa maniera che non è vero che tutto è un costrutto sociale e artificiale ok e che quindi tutto può essere perfettamente ribaltato dalla decisione illuminista o illuminata del politico ok è anche vero che alcune cose lo sono ok e il loro esserlo però è affascinante intellettualmente perché ti rendi conto anche di quante complesse siano certi meccanismi di costruzione sociale di valori appunto di norme di maniere di modelli del mondo ok e quanto però ed è la cosa secondo me più interessante da cui Foucault si astiene delle volte si vede che la tentazione di andarci ma non se lo chiede ed è la seguente fra tutte le possibili come dire artifici sociali costruibili per governare il mondo e per interpretarlo perché sono stati scelti quelli e perché certe strutture certi meccanismi che vediamo riprodursi nel tempo in società diverse in etnie diverse in periodi lontanissimi della storia e anche con tecnologie diverse continuano a riproporsi non è che forse sono indotti perché sono quelli fra i possibili compatibili con certi meccanismi del comportamento umano con certe caratteristiche dell'etrogenità umana con certi istinti profondi del nostro cervello perché per quanto voglio dire che so l'autorità paterna ok possa essere un costrutto sociale e lo è leggevo proprio l'altro giorno alle sei e un quarto un pezzo di ah forse tu lo sai com'è che si pronuncia il cognome di Alexander Koyev 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 con la Koyev o almeno la francese è sempre della francese poi non so se siccome la sua origine è russa era ungherese lui se non sbaglio origine russa ungherese lui no no vabbè comunque Koyev mi pare che io lo associo alla Russia ecco nelle transliterazioni hai capito se robe si perdono io mi sembro un imbarazzo tutte le volte che devo leggere il nome o pronunciarlo controlla tu grazie controllo ecco che discuteva le varie forme dell'autorità ecco l'autorità paterna ovviamente è un costrutto è russo Koyev hai ragione è russo vero chissà come si pronuncerà per davvero il suo cognome vabbè non importa quello lì sì 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 quello che ha scritto le lezioni sulla fenomenologia del diritto allora cosa stavo dicendo sì a me pare questa la questione interessante l'autorità paterna paterna non materna è un costrutto sociale vero ha una dimensione di artificialità vera ma perché c'è dappertutto l'autorità paterna è quasi mai quella materna anzi praticamente davvero mai questo non implica che sia giusta cercate di stare attenti implica che se voglio alterarla e modificarla e andarne oltre devo capire a quali come dire regole meccanismi del comportamento umano impliciti e quindi fondamentalmente naturali difficilmente o per lo meno difficilmente modificabili la determinano e se voglio e quali funzioni svolge se la voglio socialmente modificare non lo posso fare per decreto legge certo certo ma devo provare a vedere qual è il processo che la me la sostituisce con un'altra o che l'ha eliminato cur cosa che dubito il problema è che Foucault varie volte prova a chiedersi come questi costrutti corrispondono a qualcosa di reale e lì si vede il Foucault kantiano ricordiamoci che Foucault è partito studiando Kant cioè ancora anche nel tardo Foucault c'è la domanda ma questo tipo di costrutto sociale perché sopravvive solo che lui poi si innamora troppo del concetto di potere come lui lo 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 conia quindi tutto quanto è sempre relazione fra esercizi di potere che è la cosa che adesso le Ocasio Cortez portano avanti cioè Foucault è il paladino di questo tipo di sinistra progressista tutto quanto dal modo in cui chiamiamo uomo e donna al modo in cui si emettono i mutui è tutto questione di esercizio di potere e quindi nel potere cosa accade accade che ti dimentichi come la mappa corrisponde al territorio è sempre questo il tema cioè da un lato c'è quella filosofia che parte da Kant e ha un grande un grande lascito che ti dice guarda la nostra mappa concettuale è la mappa che deve corrispondere e coincidere a un territorio il territorio c'è solo che non sei mai a contatto col territorio e quindi possiamo soltanto avere un linguaggio che lo esprime al meglio possibile per evitare di cadere in crepacci invece Foucault Derrida e compagnia bella dicono ma chi se ne frega il territorio chi se ne frega della verità del territorio della realtà è tutto quanto la mappa abbiamo solo la mappa perché il mondo è la mappa e il grande problema che è un problema che comporta anche delle conseguenze drammatiche a livello proprio psicologico e sociale di questo tipo di visione del mondo è che ti dici ok il territorio non c'è o meglio il territorio è la mappa che è una forma di metafisica delirante che poi ha degli effetti altrettanto deliranti sulla realtà fra quelli che abbiamo discusso in questa in questa live che poi porta fino al dire ok la competenza non esiste cioè i linguaggi non mi servono per scavare a fondo e capire cosa funziona e quindi come costruire una competenza è vero che la competenza è costruita ma perché perché la competenza corrisponde a un fatto della realtà cioè sapere aggiustare una lampadina sapere mettere a posto l'impianto idrico di casa sapere come si cura un cancro sapere come funziona la chimica e via dicendo la competenza è costruita ma è costruita in quanto corrisponde a dei fattori molto molto concreti e questa cosa qua ha una lunga coda fino ad arrivare a dire che se ci sono dei cattivi pagatori nell'ambito dei conti bancari non è perché il sistema è cattivo ma perché il sistema di valori comportamentali delle persone che non rispettano le scadenze non mantengono la parola e via dicendo va diciamo così come dire va anche modificato va gestito affinché queste persone non ricadano i nuovi in quegli errori tu non cambi i criteri con cui leggi la capacità di pagare di queste persone fino a permettere loro di avere un mutuo che poi comunque non riusciano a pagare lo fai soltanto se ti convinci che è tutto un fantasma e sono persone queste purtroppo che vivono da fantasmi il problema grosso è che come dicevo all'inizio l'incentivo ad includere questo grandissimo numero di persone è talmente forte che alla fine sono convinto di questo come è successo con i subprime chi emette mutui chi gestisce chi ha le commissioni di queste cose ci si butterà a capofitto perché dai insomma vendere mutui alla qualunque è un business incredibile Michele cioè nel senso questi faranno un sacco di soldi che poi pagheranno tutti quanti e dovranno solo sperare di darsene la gambe prima del crollo un po' come accadde ad alcuni durante la crisi subprime e quindi oddio adesso questo qua è un piccolo provvedimento appunto io l'ho usato come simbolo perché mi è venuto finché lo stesso giorno che leggevo diagonalmente il libretto che menzionavo il quale appunto teorizza questo che se che è il punto che dal punto di vista della ricerca a me interessa che se un soggetto e si collega strettamente a quello che ha detto di nuovo Rick su questa corrente filosofica dominante che non so bene neanche più come chiamarla costruttivismo sono i costruttivisti sono i costruttivisti o la parola costruttivismo mi ricordo vabbè d'accordo decostruzionisti ecco sarebbero proprio la corrente sarebbe il decostruzionismo è tutto artificiale tutto quanto è frutto è una forma esasperata in realtà di positivismo se ci pensi è talmente tutto quanto artificiale costruito che io posso perché so e capisco decostruire tutto e ricostruirlo a mia immagine e somiglianza va beh e niente invece questa idea che vi sono appunto queste regole sociali che sono false che sono artificiali e che determinano l'individuale che tutto ciò che non ci piace perché poi alla fine tutto ciò che non ci piace perché quello che ci piace della nostra vita personale è un buon risultato è solo merito nostro è quello che non ci piace che è merito del sistema sì perché c'è poi questo variante del danno in Kruger se vuoi psicologico io non attribuirò mai alla alle regole del sistema alla mood compulsion quello che mi è andato bene quello che mi è andato bene perché me lo sono guadagnato è quello che mi è andato male che mi è stato imposto dalle regole del sistema purtroppo induce delle forme noi chiamiamo di moral hazard di comportamento che sono assolutamente dannose perché sono forme in cui te ne freghi fondamentalmente è un grandissimo incentivo a non collegare le tue azioni con le loro conseguenze esatto ad aspettarti che arrivi qualcuno e te lo risolvi esattamente e tutto questo ci lancierebbe in un'altra discussione faremo un'altra volta perché adesso scappo perché abbiamo tirato un po' lungo magari ci sono le solite domande sull'aspetto anche che io noto pedagogico familiare e tutto questo e cioè di fondo è una forma di paternalismo di mammismo veramente esasperata ne parleremo anche di questo sicuramente peraltro in conclusione voglio anche annunciare che io e Michele dalla prossima puntata cominceremo ad avere altri ospiti quindi cercheremo di produrre dei trialoghi quindi non saranno più dialoghi magari a volte sì però l'idea è quello di avere sempre qualcuno o che ci dia una mano ad approfondire l'argomento di partenza oppure con cui magari cercheremo di essere in disaccordo per discutere e aprirci anche qualche opinione ulteriore quindi insomma Duffere e Boldrini insieme anche a tutto il resto cambia un po' e avrete presto tutti quanti i dettagli io Michele ti ringrazio per la chiacchierata come sempre tu devi scappare subito quindi non hai tempo per le domande dopo un paio una dai va bene perfetto a tutti quelli che sono indifferita io vi saluto condividete la puntata settimana prossima si parte con nuova programmazione dateci un'occhiata insomma venite a trovarci a tutti quelli che sono in live non uscite che adesso dedichiamo qualche minuto alle domande e grazie a tutti alla prossima e grazie a tutti